Ciao, io sono Elena Tripodi e sono una studentessa della facoltà di scienze statistiche ed economiche presso l'università degli studi di Milano Bicocca. Prima di conoscere il corso Genio in 21 giorni, il mio metodo di studio era basato su leggere, ripetere, leggere e ripetere in continuazione e questo ovviamente ha comportato un calo in quello che era il mio metodo di studio. Mi sono iscritta all'università a settembre 2016, sono riuscita a dare il primo esame ad aprile 2017, 8 mesi. Dopo aver fatto il corso Genio in 21 giorni, il mio metodo di studio è completamente cambiato perché in 23 giorni ho preparato 5 esami, di cui ho preso un 30 preparando l'esame di Statistica 1 in 3 giorni. Adesso la mia vita è completamente cambiata perché mi sento di poter dare un valore aggiuntivo a quella che è la mia vita, a quella che sono io e un valore aggiuntivo a quelli che sono i miei studi, che possono senz'altro migliorare e portarmi lontano. Grazie. Grazie a tutti.